Devo dire che il centrodestra per una volta è riuscito a fare sintesi con il grande apporto della Lega e non fare l'ennesimo favore a Renzi. Renzi, che nella sua mente contorta vorrebbe creare Tele Renzi, è stato oscurato dal suo stesso partito. La stessa cosa che è successa nel licenziare in Senato la riforma o pseudo tale riforma della RAI affossata dai suoi stessi parlamentari, ieri nelle nomine del Consiglio d'amministrazione hanno giocato un altro brutto scherzo al signor Renzi. La Lega sta vigilando affinché Tele Renzi resti spenta.